Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la scrocco a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci baciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico, ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori, ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi, tu, 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 come puoi pensare che ci manca qualcosa?